Fondazione delle Serve del Focolare della Madre a Brignano Geradadda, un paese in provincia di Bergamo. Il sabato 22 ottobre, giorno in cui la Chiesa celebrava per la prima volta la memoria del Beato Giovanni Paolo II, abbiamo voluto dare inizio a questa nuova comunità, affidandola alla sua protezione. Padre Raffaele, fondatore del Focolare della Madre, celebrò la prima messa nella Cappella delle Suore. Nell'Omelia, egli disse che dobbiamo sempre essere uniti alla volontà del Signore per dargli continua gloria e spiegò che il cuore delle nostre case deve essere il Santissimo, a cui dobbiamo rivolgerci continuamente. Spiegò che dobbiamo abituarci al fatto che egli stia lì, ma in ogni momento dobbiamo aprire la porta della Cappella per visitarlo, chiedergli aiuto e ringraziarlo. Che gioia poter alla fine vivere in questa casa con lui. Quella stessa notte ebbe luogo una veglia di adorazione nella parrocchia per pregare per la nuova fondazione. Il giorno successivo fu celebrata ufficialmente la fondazione in parrocchia. Ci riunimmo tutti nella chiesa di Sant'Andrea di Brignano. Alla celebrazione si unirono pure le suore di Lumezzane, che arrivarono con il parroco, Dontino Bergamaschi, e un utrito gruppo di famiglie del Focolare della Madre di Lumezzane. Il sindaco di Brignano, Valerio Moro, diede il solenne benvenuto alle serve e in processione con la banda andammo fino alla chiesa parrocchiale dove ebbe luogo la celebrazione della Santa Messa. Fino all'anno scorso le suore della carità di Maria Bambina si erano incaricate del lavoro pastorale in questo paese di Brignano. Per 130 anni avevano compiuto un lavoro continuo servendo la parrocchia. Don Luciano Manenti, il parroco, nella sua omelia le ringraziò per tutto questo lavoro e per la loro dedizione instancabile nei confronti delle necessità che sorgevano. Ringraziò anche Padre Raffaele, serve il Signore e la Vergine per la nostra presenza lì per continuare questo lavoro apostolico delle suore nel paese. Dopo la comunione, Padre Raffaele rivolse pure alcune parole di ringraziamento per l'accoglienza e pregò per i frutti di questa nuova comunità per la gloria di Dio. Alla fine della celebrazione eucaristica, Suor Maria Rita, che era stata la superiore della comunità di Brignano delle suore della carità di Maria Bambina, consegnò ufficialmente le chiavi del convento a Suor Isabel Questa, superiore della comunità di serve e del focolare di Brignano. Suor Maria Rita ringraziò le serve per aver accolto la richiesta del parroco di fondare lì e Suor Isabel a sua volta la ringraziò per l'immenso lavoro che avevano fatto nel paese per più di un secolo. Affidiamo al Beato Giovanni Paolo II questa nuova fondazione delle serve, che desideriamo ossia, come ha detto padre Raffaele, per la gloria di Dio.